Prima seduta ieri del nuovo consiglio comunale di Bolzano. Prima alcune note di colore. C'era attesa per l'esordio dell'esponente di Casa Pound, Andrea Bonazza, e la sua presenza è stata simbolicamente contestata da Guido Margheri, di Sinistra Ecologia e Libertà, che ha indossato un fazzoletto dell'Associazione Nazionale Partigiani. C'era attesa anche per capire cosa sarebbe stato deciso sulla presunta ineleggibilità della capofila della lista per spagnoli, Matteo Bonvicini, ma la materia è stata rinviata, anche perché il diretto interessato è a Ibiza per il suo addio al celibato. Fari puntati dunque sull'assessore uscente all'urbanistica Chiara Pasquali, che ha rassegnato le dimissioni dal consiglio, perché, dice, il risultato elettorale è stato insoddisfacente, ma le vere ragioni probabilmente sono altre. Credo che in questo momento tutto quello che ho fatto rispetto alle politiche urbanistiche nella città si è messo in discussione e quindi anche da chi ha condiviso questo percorso, parlo degli ecosociali, ma non solo, in questi dieci anni. E allora smantellare tutte le politiche urbanistiche affrontate, in cui uno dei principali cardini è quello dei piani di riqualificazione urbanistica come possibilità di trovare accordi pubblico o privato, non mi trova in accordo. E si dimentica che con la riqualificazione urbanistica ci sono 70 milioni di euro che possono essere a favore della città per tutte le politiche anche di tipo sociale, però certe rigidità anche degli ecosociali non le comprendo, perché puntare tutto sul sì o no al benco mi sembra, come dire, senza una valutazione profonda di tutte di tutte le questioni, mi sembra una rigidità eccessiva.